18 volte campione italiano, 15 volte campione del mondo, Giacomo Agostini, guest star oggi a Monza. Giacomo, si entra nella Hall of Fame anche del CIV? Beh, sì, è sempre una bella cosa, poi io quando ci sono i motori corro sempre, e a Monza poi ho dei ricordi meravigliosi perché Monza era la mia pista di prova ed è il posto dove ho vinto il mio primo titolo di campione del mondo, quindi è un ricordo particolare. Parliamo di Monza, appunto il Tempio della Velocità dove tanti ricordi, un aneddoto di questa gara? Un aneddoto, appunto come ho detto prima, è stato il mio primo approccio è stato che il Conte Augusto quando ho provato l'MV mi ha mandato a Monza e io ero felice e orgoglioso di essere a Monza a provare, solamente che mi ha messo davanti alle tribune sul rettilineo, mi ha messo dei birilli e io dovevo solamente andare in mezzo a questi birilli e non fare tutto il giro, quindi questo era una cosa un po' anomala, però il Conte Augusto voleva togliersi questa soddisfazione di farmi andare con i birilli. Ogni tanto un giro il campionato italiano, come lo valuti, come ti sembra questo CIV? Lo dicevo prima Presidente Sesti, è una cosa importante perché l'Italia ha sempre formato grandi campioni, quindi è sempre stata all'avanguardia e c'è stato un momento che adesso sta calando, sta calando perché è sparito il campionato italiano, è sparito una scuola dove si possono istruire e allevare i ragazzi giovani e quindi direi che il ritorno del CIV è una cosa molto importante perché vediamo altre nazioni, soprattutto la Spagna, hanno una preparazione per i ragazzi giovani, fanno garettine, organizzano eccetera e quindi ecco che la Spagna oggi ha tanti piloti e tanti campioni. Noi ne avevamo tanti, li stiamo perdendo, però spero che con queste gare che ritornino ancora perché naturalmente la scuola ci vuole.